Per continuare il nostro giro tra Odiunsani e l'Ostrigonia, abbiamo parlato di una sfida maggiore di vita compagnola e di un rurale, di quella di Asalù, e qui, in Olmicapella, capilogo di Odiunsani, i 120 abitanti alla NADA sono obbligati a fallare in l'isola, fa un'ora di strada per andare a bere un dottore, o allora sui dottori che sono obbligati a colare a fare un giro di i gas e di i baesi, ma qui avrebbero cambiato a guiappogu per parlare in un appuntamento subito qua con Frederic Mariani e Mary Agumuna. Qui, so pareti anni i Giacchi Agumuna preparano l'abertura di un cabinetto mediale per raccogliere dottori e kinesi terapeuti. Giacomo, saluto. Saluto. Il rapporto che in Olmicapella, la comunità Tantouba è in corso, c'è di Asalù, che faccia parte di vostri lavoratori più importanti. Sì, siamo assai preoccupati per Asalù di tutte le persone che stanno in un territorio, e ci trovi un'esoluzione, perché un mondo di Asalù può essere ben e qui, e che lavorano in buone condizioni per sognare tutte le persone come lo vogliono. A gente, i baesi anni di Giacchi, come vengono per Awa? Allora, c'è tre dottori che collano una volta a Bessimane, ci sono le infirmiere, ci sono gli terapeuti che vengono. Allora, tutte queste ente qui, può rendere quando il gabinetto sarà finito, andare, rigezare le malattie, le condizioni perfette per fare tutti gli exami che lo giova fa, e la riduzione per ogni ogni altro materiale che lo giova. E dunque come è beno da l'idea di vanasch e di lavorare in questo progetto? Allora, si parla sovente di esercizi militari, a television, a radio, in Corsica, in tutto il continente, e penso che ci sono eletti a trovare soluzioni, per rendere più facile, e ente andando a Torre, a Guinei, di professionali di Asalù. E nel 2015, quando si parlava di un contratto di ruralità in Tavallagna, a io riusciuto a far riconosce, a lui capire il Centroburgo, come lo dice io, perché c'è una buona servizia pubblica, sempre, che so qui. e, a causa di un brevetto di l'Embiga, su cui le concernava Asalù, è morrì giù da fare scrivere di questa fare la realizzazione di un gabinetto medico in Tavallagna. E di sicuro, i baisani scontrimentano il nostro riporto per rinuveri già sai di a nascita di un'arnese come questo a pro di a vita campagnola. E così, forse, forse, aiudere la montagna, la popolazione, e farne io, e che sia, soprattutto, importantissimo da noi. ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è che il nostro corso gratuito è importante che per l'Unione Europea è importante di aggiungere il servizio pubblico in più di l'altro che è deciso di già come aggiungere la scuola, la posta per provare di mantenere una vita in nostro paese e non la nostra comunità. Penso che il Paese può fare bene a gente qui che esistono la sicurità ciò è il spendivoghi, ciò è la posta e ciò è il nostro corso gratuito e ciò è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito di condizioni più buone. Per ciò che tocca al finanziamento il progetto del Dalle custerà 680.000 euro a mezza pagata dall'Europa per via del contrato di ruralità il resto della comunità, il Stato e la collettività di Gorsica. Se tutto è da per mezzo i paesani di Odiunzani può errarlo in questo gabinetto medico a noi che bene.